Marcello Bacci La psicofonia esclude l'intervento di un medium? Commento Non lo esclude. Le entità che vivono in piani di esistenza molto elevati, che hanno bisogno di presentarsi in psicofonia, devono poter usufruire di una fonte di energia fisica, di uno strumento psicofonico. È stato il caso di Alexander, una guida del cerchio esseno che si è manifestato presso il gruppo psicofonico di Marcello Bacci di Grosseto per richiamare lo strumento dello storico cerchio esseno che aveva deciso di interrompere la sua attività. Grazie. 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 Grazie.